Allora, Celebro è un'azienda innovativa nell'ambito delle biotecnologie e sviluppiamo nello specifico strumenti per la riabilitazione neurologica dalle patologie neurodegenerative all'ambito della prevenzione e come in questo caso oggi nell'ambito dello sportivo. Siamo nati nel 2018, attualmente abbiamo diversi centri di professionisti sanitari che utilizzano le nostre strumentazioni sul territorio italiano. Allora, nello specifico con la squadra stiamo utilizzando uno strumento che si chiama di fotobiomodulazione cerebrale. È un caschetto che viene posto sulla testa del giocatore e utilizza una luce nel vicino infrarosso a 810 nanometri che serve proprio per andare a migliorare il metabolismo dei nostri neuroni quindi va a rimpolparli, ad abbassare anche i principi di infiammazione che di solito lo sportivo, soprattutto nelle fasi post partita o post allenamento, è più soggetto. Quindi nello specifico abbiamo un casco che viene posto proprio sulla testa dello sportivo e sono dei trattamenti di intorno ai 18 minuti dove o è in una fase di rilassamento, quindi sta occhi chiusi oppure va a riguardarsi e a rivedere tutti quei passaggi che ha effettuato durante la partita e quindi una sorta di feedback anche visivo della performance che ha ottenuto e questo di solito migliora ancora di più l'affaticamento cerebrale e la performance stessa. Allora, di base all'obiettivo dell'utilizzo di questa strumentazione nell'ambito sportivo e parlo di sportivo in generale, è andare a tutelare lo sportivo a 360 gradi quindi non tanto sulla parte di performance vera e propria ma andare a migliorare e ad attenuare tutti quei processi di infiammazione cerebrale a cui gli sportivi vanno incontro e quindi è anche una tutela veramente della vita professionale e sportiva del professionista i risultati che abbiamo ottenuto sono dalla miglior concentrazione in campo e prima a un abbassamento dei livelli di ansia e anche di prestazione ma soprattutto andiamo a migliorare tutta la componente del sonno quindi una migliore qualità del sonno e una migliore qualità dell'umore anche. Grazie 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 Grazie